Siamo in cima a via Carbonara, qui a pochi passi dalla sede della Caritas, davanti a noi le finestre dell'Arcivescovado e questo è il cassonetto nel quale sabato mattina è stata deposta la piccola Maria Grazia, abbandonata, un fatto che ha veramente colpito molto in città e non solo. Qui accanto a me Arianna Mattei, un'operatrice del servizio Accoglienza alla vita della Diocesi di Bologna. Arianna, sicuramente nell'ambito del vostro servizio vi siete interrogati sulle motivazioni che possono aver portato a questo gesto. Sì, senz'altro una donna che arriva a compiere un gesto così estremo deve essere una donna che versa in una situazione di disperazione. Senz'altro è una donna che non è libera di scegliere, il che vuol dire che magari nella sua non libertà di scelta c'è anche una mancanza di informazione. Dal vostro punto di vista è possibile che questo sia non solamente un fatto di solitudine ma potrebbe esserci qualche altro aspetto inquietante? Sì, a noi ha colpito molto il fatto che il cordone umbilicale fosse stato strappato, che la borsa in cui era chiusa Maria Vittoria fosse addirittura chiusa con la chiusura lampo. Questo non ci ha tolto dal pensare a delle realtà di cui siamo a conoscenza, che può essere anche la prostituzione. Sappiamo benissimo che molte donne sono costrette alla prostituzione anche in gravidanza. Anzi, c'è purtroppo un tipo di clientela che purtroppo predilige le donne in questo stato. Quindi forse dobbiamo anche pensare che questa donna coercitivamente sia stata portata o comunque la sua bambina le sia stata proprio letteralmente strappata. Diciamo che sono queste ipotesi e non è neanche compito nostro indagare ma questi sono scenari possibili e credo che sia giusto che anche come comunità cristiana riflettiamo su questa situazione. Però diciamo una bambina in più, quali possibilità ci saranno per lei? Senz'altro adesso la bambina verrà affidata ai servizi sociali territoriali e sono sicura che verrà messa in moto la macchina delle adozioni e su questo possiamo stare tranquilli. Poi il signore evidentemente ci ha già pensato fin dall'inizio. Quello che mi preme ricordare è che comunque a Bologna esistono dei servizi territoriali come il servizio accoglienza alla vita in cui è possibile recarsi. Noi siamo in via Irma Bandiera 22 e siamo disponibili ad accogliere tutte le mamme che si trovano ad affrontare una gravidanza magari anche non cercata, non desiderata. Noi accogliamo qualsiasi tipo di donna, qualsiasi tipo di credo religioso e accogliamo soprattutto la difficoltà di poter fare una scelta ma ricordarsi che per scegliere è importante sapere quali sono tutte le opportunità che il territorio ti offre. Una di queste può essere il parto in anonimato, un'altra può essere il fatto di tenere il bambino con degli aiuti. Il nostro numero di telefono è 051 433 473. Ci siamo sia in orario di ufficio, quando non ci siamo noi c'è sempre una segreteria telefonica, quindi noi ribadiamo che se sei in difficoltà e non sai come fare, se sei molto indecisa, se portare avanti la gravidanza, noi ci siamo, noi accogliamo la vita.